Ora è ufficiale. Stefano Marchegiani è il candidato sindaco per il gruppo dei progressisti, gruppo formato da Azione, Bene Comune, Movimento 5 Stelle, Ribella, Verdi, Partito Socialista e Fano dei Quartieri. Provenendo dalle file del Partito Democratico di cui è stato segretario e per il quale, nella prima tornata dell'amministrazione seria ricoperto il ruolo di vice sindaco, Stefano Marchegiani in seguito si è dissociato costituendo un gruppo autonomo in Consiglio Comunale, poi passando ad Azione, il Partito di Calenda, dove sono confluiti lo stesso sindaco Massimo Seri e i due capigruppo delle liste civiche de lui create, Edoardo Carboni di Noi Giovani ed Enrico Cipriani di Noi Città, tutti e tre assenti alla ufficializzazione della candidatura di Marchegiani. Una vicenda politica complessa che sembra ormai, anche se non è detta l'ultima parola, sancire la definitiva rottura tra i progressisti e il centro-sinistra. E' stato già candidato sindaco dieci anni fa con un'altra coalizione, lo è di nuovo questa volta, cos'è cambiato da allora ad oggi? Tante cose, sono passati dieci anni, dieci anni di esperienza ovviamente, un'amministrazione che ha fatto tante cose buone, sicuramente l'apporto che noi diamo oggi come azione e come progressisti è la proposta di alzare un po' la sticella in una storia nuova necessariamente perché dopo dieci anni bisogna rinverdire i programmi e adeguarli, armozzarli alle esigenze nuove. Siamo qui in mezzo alla gente per approfondire quelli che sono per noi i pilastri del programma, di una città che tende a diminuire gli abitanti, che tende a essere meno appetibile su alcune cose, su altre no e però noi riteniamo che le sfide importanti che sono state un po' rimandate o tenute in sospeso a galleggiare vadano affrontate. Vanno a una città che può esprimere tanto e sono cose che bisogna fare non per arroganza ma per il marketing urbano, per garantire posti di lavoro, per garantire turismo di qualità e per garantire un rispetto del paesaggio dell'ambiente che è un altro dei temi che ci sta a cuore. I progressisti sono una coalizione composita, quali sono i valori fondanti di carattere aggregativo? Per esempio la sussidiarietà e la solidarietà, stare vicino a chi soffre, fanno una città molto dignitosa che non fa capire in quelle parti più deboli la sofferenza di chi ha un anziano in casa e non ha la possibilità di sostenerlo adeguatamente. 14 milioni di euro spesi ogni anno delle famiglie di Fano per le badanti che sono un tema anche quello da affrontare per dare dignità a queste lavoratrici. Il ruolo della sanità per Fano, quale sanità per Fano nel contesto che la regione sta tracciando con decisione, è solo un contesto di edifici nuovi ma quali sono i contenuti? Noi vorremmo cominciare a affrontare questi aspetti. Il tema anche dell'agricoltura, ci interessano questi aspetti nuovi per tracciare quelle grandi possibilità che Fano ha, il rapporto con l'innovazione tecnologica, con l'università, con la sperimentazione e la creatività perché il nostro territorio ha anche grandi aziende pensate alla Saipen, pensate alla Schnell, pensate a Dago, ne dico tre che mi vengono in mente adesso, che possono interlocuire maggiormente con l'amministrazione comunale in una sinergia che riteniamo possa essere molto utile. Porte definitivamente chiuse con il Partito Democratico? Niente affatto, assolutamente. Io credo che il Partito Democratico attraversi una discussione complessa, che rispettiamo, credo che non tutto il Partito Democratico sia convinto di queste scelte, di farsi subordinare da posizioni molto dure delle liste civiche. Le liste civiche poi nascono durante le elezioni, poi esprimono le loro figure che rimangono lì, però non sono dei partiti. Noi speravamo che il Partito Democratico, come partito di maggioranza, della maggioranza, avesse il compito di traino e di regia in uno sforzo maggiore di unione, di un campo giusto, campo largo, che poteva rendere meglio contendibile la città al centro-destra. Marchigiani, nelle prossime elezioni vi trovate di fronte il Partito Democratico e il centro-destra, ma pensate veramente di vincere? Noi pensiamo di fare del nostro meglio. Partiamo da, come tutti i sondaggi dicono le percentuali che dicono, sappiamo bene che la strada è molto complicata, ardua, ma siamo anche convinti che raccontando le cose alla gente la rappresentanza in Consiglio Comunale possa essere interessante. Poi se arriviamo un pochino più lontano, bene, accettiamo responsabilità.